Giorno 661. Molti aggiornamenti di oggi riguardano l'Est. Qui le forze ukraine hanno condotto una serie di attacchi missilistici sulla logistica russa e bombardato il quartier generale russo responsabile per l'offensiva su Avdivka. Tutti gli sforzi sono concentrati sul minare le capacità offensive russe in quanto ieri i soldati ukraine che proteggono Avdivka hanno affrontato molti e pesanti attacchi. Prima di tutto le forze ukraine hanno usato gli Haimars per distruggere un altro deposito di carburante a Donetsk. Il terzo nel corso della settimana. Gli analisti russi l'han chiamata una campagna di sfiatamento e si sono mostrati allarmati dalla situazione chiedendo un rafforzo della contraerea nella regione per supportare l'operazione offensiva. In più per complicare e disturbare la logistica gli ukraine hanno colpito anche Taganrok. Taganrok è probabilmente il centro logistico più importante della regione di Donetsk poiché ha una connessione ferroviaria diretta con le città di Donetsk e Ordivka. I residenti hanno riportato diverse esplosioni e video recenti hanno filmato l'arrivo dei due missili. Barsagliando strutture di stoccaggio e logistica russi a Taganrok, gli ukraine limitano i rinforzi che possono essere mandati ad Avdivka, mentre colpendo i depositi di calburante riducono l'utilizzo di mezzi al fronte. Questa campagna è estremamente utile per alleviare la pressione sulle difese ucraine che stanno affrontando una rinnovata ondata di attacchi. Gli scontri più intensi sono avvenuti nella parte nord della regione, dove i russi non hanno abbandonato le speranze di stabilire controllo su Stepove. Video di ieri mostrano l'assalto russo sulle posizioni ucraine. La colonna consisteva di circa 15 corazzati che hanno portato 200 soldati a Krasno-Rivka, da dove si sono diretti verso il fronte. I combattenti ucraine hanno riportato che diversi veicoli e conseguentemente i soldati che portavano sono stati eliminati durante lo tiramento e che a breve verranno rilasciati i video a riguardo. Alcune unità d'assalto sono ancora supportate da corazzati, ma i russi non schierano più molte unità. In un video di diversi giorni fa si possono vedere dai 3 ai 4 corazzati sulla linea di contatto che sono riusciti a raggiungere la posizione perché parte di un'unità molto piccola. Tuttavia visto che continuano a usare la medesima traiettoria, l'artiglieria ucraina ha oramai le armi puntate su queste strade, pronte a sparare appena individuano russi nell'aria. Alcuni riescono a raggiungere comunque la linea alberata e iniziare gli scontri. Lo stesso vale per quella a nord di Stepove. Video recenti mostrano un corazzato russo che entra nell'insediamento ed esplode su una mina. Fonti russe hanno usato queste geolocalizzazioni come prova che le loro forze fossero riuscite a stabilire completo controllo sul lato est di Stepove e sulla linea alberata. Video dei droni della 47esima meccanizzata ucraina tuttavia mostrano una scena ben diversa. Solvolando la linea di alberi in questione si può vedere un gran numero di cadaveri di soldati russi che non sono riusciti a raggiungere le posizioni ucraine e sono stati eliminati da artiglieria o droni. Solo in questa sezione di 100 metri si possono vedere 48 cadaveri, descrivendo un costo di circa 50 morti ogni 100 metri di linea catturata. Per onestà si deve dire che neanche gli ucraini controllano la zona, rendendo quindi il punto tra i binari e Stepove una zona grigia. Quella delle ondate umane è una tattica che funziona e per minimizzare le perdite ed evitare che i russi ottengano i loro obiettivi gli ucraini hanno adottato una difesa elastica. Cercano di uccidere quanti più attaccanti possibile e quando necessario indietreggiano. Quando i russi si ritrovano senza soldati sufficienti e hanno bisogno di raggrupparsi, gli ucraini contraattaccano per ricatturare quanto più terreno possibile. Questo porta la linea del fronte a muoversi costantemente. Ieri gli ucraini hanno cominciato a usare l'aviazione per bombardare i punti di comando russi. Video recenti mostrano gli effetti dei bombardamenti di un Su-25 sul quartier generale di un battaglione che al momento è impegnata ad assaltare le posizioni ucraine. L'eliminazione dei comandanti impegnati sul campo ha solitamente un impatto immediato sulla situazione e ha senza dubbio portato vantaggi agli ucraini. In generale la situazione ad Adif Karivan è difficile ma sotto controllo. Con l'uso combinato di aviazione, artiglieria e missili, gli ucraini sono riusciti a colpire centri di comando e logistica sia sul fronte che nelle retrovie e a migliorare la propria postura difensiva. Continuando questa campagna costringeranno i russi a ridurre il ritmo dell'offensiva dando agli ucraini più spazio per contraattaccare. È al momento in corso un sostanziale sconto sulla collezione delle bandiere doppie. Un acquisto ideale per mostrare solidarietà alla situazione ucraina e supportare il nostro lavoro. Se siete interessati il link si trova in descrizione. Come al solito, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.